L'MSI destra sociale riparte da Manduria. Una sezione è stata inaugurata sabato scorso alla presenza del segretario nazionale onorevole Luca Romagnoli e dei componenti dell'ufficio politico nazionale che hanno tenuto un'assemblea. Il direttivo nazionale ha affrontato il tema la rinascita del mezzogiorno dell'MSI riparte da Manduria. Ai lavori presenti anche il segretario territoriale dottor Cosimo Giannini e il coordinatore cittadino signor Mario Nardelli. Abbiamo voluto riconoscere merito ai nostri simpatizzanti di Manduria che hanno avuto la generosità di dotarsi di una bella sede, di ricominciare l'aggregazione, di fare un tesseramento e noi speriamo che attraverso il loro entusiasmo locale si riaccenda un po' la fiamma in tutta la vostra regione. E quindi abbiamo inteso venirli a trovare, conoscerli personalmente perché ce l'avamo conosciuti più per via indiretta attraverso il telefono e incoraggiarli in questa prima opera di broselitismo che speriamo contagi anche altri centri delle Puglie e ci permetta di ricominciare a progettare una nostra proposta politica anche in vista delle regionali del prossimo anno, oltre che di eventuali elezioni amministrative locali. Quindi si pensa già alle prossime consultazioni regionali, della prossima primavera ci sarete anche voi? Io credo che lo sforzo per presentare la destra sociale alle prossime elezioni vada senz'altro fatto. Sappiamo le difficoltà ma siamo gente che di fronte alle difficoltà non si è mai tirata indietro finché riteniamo di continuare a impegnarci per una proposta politica di destra sociale che in Italia è francamente poco rappresentata dalle cosiddette alte destre. Noi finché riteniamo che la nostra proposta sia importante continuiamo la nostra volontaria e generosa attività militante perché crediamo che l'Italia abbia bisogno di gente che non solo ci può mettere la faccia perché ha la moralità specchiata come abbiamo detto in tante occasioni ma ci può mettere la faccia perché ha anche delle buone idee e crediamo che vadano in qualche modo rilanciate. Sono state ricordate le idee e i valori espressi da Giorgio Almirante a cui è intitolata la sezione ubicata in Piazza della Repubblica ovvero Piazza Belle Donne. La moralità, l'amore per la patria è il primato dell'Italia e degli italiani rispetto a quelli che sono interessi di parte o peggio a regionalismi che noi abbiamo sempre rifiutato e come ci ha insegnato Almirante che fu il primo a porre in forte dubbio il regionalismo fin dalla legge che ne istituì appunto le regioni perché come diceva Almirante le regioni sarebbero state fonte di spreco, fonte di glentela e probabilmente non avrebbero risolto organizzativamente, migliorato quella che era l'offerta sanitaria quella che poteva essere una dotazione di servizi sociali che si voleva in qualche modo migliorare attraverso le istituzioni delle regioni ma che poi di fatto non sarebbe stato così. Credo che sia stato profetico, credo che sia stato uno dei pochi a essere veramente lungimirante su questo all'epoca fu avversato, diciamo la storia che come al solito ha saputo essere buona testimonia e gli ha dato ragione perché quello che sono state le regioni oggi senza differenza, è inutile che qualcuno del nord Italia si alza in piedi e diceva però da noi è diverso, non è diverso, da loro è diverso solo perché sono meglio organizzati, perché hanno una struttura funzionale sul territorio che purtroppo il mezzogiorno in Italia non ha ed è stato penalizzato proprio dai loro egoismi in tante occasioni ma per il resto il modo di sprecare il denaro pubblico ce l'hanno sia le regioni del nord che quelle del sud tant'è che il debito sanitario della regione Veneto non è molto differente dal debito sanitario della regione Calabria numeri che basta confrontare per rendersi conto di questa realtà e quindi la battaglia che la fiamma fa e non da oggi la facciamo da tempo è anche per una nuova carta costituzionale che tolga alle regioni quello che le regioni hanno dimostrato di non saper utilizzare prima per tutte la sanità visto che loro hanno avuto l'orgoglio di dedicare la sede a Giorgio Almirante noi gli abbiamo portato delle cartoline e il franco bollo che è stato realizzato dalla destra sociale per ricordare il centenario di Giorgio Almirante questo è un paese dove le poste italiane onorano su mandato del Consiglio dei Ministri chiunque ha stato fatto per esempio il franco bollo per addirittura il quarantennale della morte di Pasolini tanto di cappello ci mancherebbe però non si è trovato lo spazio per ricordare che Giorgio Almirante in cento anni non solo ha rappresentato la destra ma è stato un uomo di moralità specchiata ed è stato un uomo che si è battuto per la pacificazione nazionale e per il primato della nostra Italia non averlo da parte delle poste voluto ricordare con un franco bollo lo troviamo vergognoso abbiamo provveduto noi, realizzato il franco bollo ci sono già delle persone che sono disposte quando riceveranno le nostre cartoline con il franco bollo Giorgio Almirante a pagare la tassa per aver ricevuto la cartolina con un franco bollo che non ha valore di conseguenza si faranno già disposti a farsi carico del pagamento della tassa di ricezione e per noi questo qui è importante perché significa che al di là di quello che costa a ciascuno ciascuno di noi è disposto ad impegnarsi per continuare a diffondere le idee e i valori che quest'uomo ha rappresentato La nuova sezione è curata dal segretario territoriale dottor Cosimo Giannini dal coordinatore cittadino Mario Nardelli un impegno notevole questo sul territorio Parecchio notevole, siamo consapevoli di questa responsabilità che abbiamo preso con l'amico Mario e con tutti i nostri militanti purtroppo abbiamo avuto anche la giornata un po' sfavorevole comunque inaugurazione bagnata, inaugurazione fortunata quindi innanzitutto io ringrazio l'onorevole Luca Romagnoli che ci ha onorati della sua presenza prima c'è stato un ufficio nazionale insieme ai componenti noi andiamo avanti, speriamo di riaccendere questa benedetta fiamma siamo a buon punto con i tesseramenti gli sta curando lui i tesseramenti contiamo di sfondare quota 100 per adesso però vediamo un attimino come si mettono abbiamo creato entusiasmo perché a Manduria c'è voglia di destra a Manduria c'è voglia della fiamma e speriamo veramente di riaccendere questa benedetta fiamma per chi volesse tesserarsi? ma siamo a disposizione di tutti basta trovare i numeri di telefono, di cellulare che sono su Facebook e qui in sede e ognuno può venire e chiedere la tessera non costa niente non costa assolutamente niente a proposito, la tessera è gratuita questo grazie all'ufficio nazionale per il 2014, gratuita quindi penso che nessun partito la faccia gratuita quindi noi siamo i primi forze in Italia ad effettuare questa politica speriamo bene siamo a completa disposizione